Mancano dieci giorni alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne e a Caltanissette è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 30 anni originario di Foggia. La violenza tra le mura domestiche subite dalla compagna per tre anni avrebbe toccato il culmine l'ultima volta percosse un braccio rotto. Un'escalation di violenza che sarebbe accaduta davanti gli occhi della figlioletta, poi la denuncia ai carabinieri del comando di Caltanissette l'arresto lo scorso sabato come deciso dal giudice delle indagini preliminari i Santi Bologna, ma a chi rivolgersi se si è vittime di violenza? Si può contattare subito il numero di emergenza 112 senza esitare né rimandare in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica, se si è vittima di violenza psicologica e se si sta fuggendo con i figli, se il maltrattante possiede armi. È a disposizione anche il numero antiviolenza e antistalking 1522, numero di pubblica utilità che è attivo 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, accessibile su tutto il territorio nazionale sia da numeri fissi che da mobili, con un'accoglienza disponibile sia in lingua italiana, inglese, francese, araba e spagnola. L'app 1522 consente alle donne di poter chattare con le operatrici ed è possibile anche attraverso il sito ufficiale del numero antiviolenza e antistalking 1522. Poi c'è anche l'app della Youpol realizzata dalla Polizia di Stato ed infine se si ha bisogno di cure mediche immediate ed urgenti si chiama il 118. Gli operatori sociosanitari del pronto soccorso oltre a fornire le cure necessarie sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita dalla violenza.